Dopo la missione di responsabilità da parte di Capuano, giunge anche quella della squadra per il tramite del capitano Gianmarco Bannucchi, il portiere del Taranto, ospite della trasmissione Rosso-Blu in onda su Antenna Sud Extra, chiede scusa ai tifosi dopo la brutta prova offerta dagli Ionici lunedì sera. Da capitano ci tenevo a nome della squadra anche a chiedere scusa ai tifosi, perché comunque potevamo e dovevamo far meglio ieri. È stata una partita dove, quando la casertana comunque si è difesa molto bene, quando sono rimasti in dieci secondo me abbiamo avuto un po' troppa frenesia, anche nelle giocate. Avevamo quella frenesia di pareggiare la partita, di far gol a tutti i costi, analizzeremo meglio con il mister la partita. 23 punti in 15 partite per Bannucchi, però qualcosa è stato lasciato per strada. Noi come squadra l'obiettivo è quello di far sempre meglio, non abbiamo scuse, ci prendiamo tutte le nostre responsabilità, però è un campionato, comunque è un girone difficile, tutte le partite sono difficili, come squadre molto attrezzate ci sono delle partite che potevamo far meglio, abbiamo lasciato qualche punto per strada, quello sì. Il campionato va avanti e serve equilibrio per proseguirlo al meglio. La serenità però con la consapevolezza che dobbiamo e possiamo, per le nostre qualità di ogni individuo della Rosa, dobbiamo e possiamo far meglio. E comunque la classifica, come dicevo prima, dimostra l'equilibrio che c'è in questo girone. Grazie. 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 Grazie.